Ciao a tutti amici di EvryEye, benvenuti in questo nuovo video, sono felice con la rubrica Happy Gamer e oggi siamo in compagnia del nostro amico Brusco, il Sior Brusco, come sentite nei video. Quella dei video. Esatto, saluti Sior Brusco. Ciao a tutti. Siamo in una partita su League of Legends, siamo una botlane e il motivo per cui stiamo registrando questa partita è perché siamo un team ad carry, cioè il Sior Brusco, e una Cassiopeia Support, che è il Sior Fade. Dovrebbero esserci delle bombo combo ambigue, quindi a meno che non fideremo come la morte, quindi non vedrete mai questo video. Dovrebbe essere una buona partita, speriamo. Contro abbiamo Caitlyn Blitzcrank, una copiata fantasiosa quanto il piscio dopo la birra, citazione. E per il resto un Riven top, roba solita, gente che picca Yasuo Mid. Boh, vediamo. Sì, comunque, i danni magici sono sulla E all'impatto. Ah, ti mo' e te lo stai facendo a P giusto alla fine. Sì, abbiamo valutato che farlo a P, alla fine non avrebbe avrebbe portato meno vantaggi che farlo a P, anche per le nostre uombo-kaumbo. Quindi, le uombo-kaumbo. Le uombo-kaumbo. Non è stato così. Io starto al solito. Al solito, l'ama di Dora, no? Ah, no. Ok. Poi magari ci sta anche lo Spellman. Che Dio tassista. Dio autista. Vedi qua, cioè, sulla mia bella S. Il Bersaia ha avvelenato, quindi ogni toto attacco. Il tempo di ricarica di Zane si riduce... Si riduce a 0.5 secondi, quindi si riduce a niente. Nel tempo in cui... Costa 50. Eh, GG. Quindi io direi che potrei anche startare di E. Lei ha sbloccato la E? Sì, da al solito. A posto. Tanto qua in chat discutono di tattiche avanzate. Io sono una guarda, potrei stare in mezzo alla lei. Perché bella la mia coda, guardale. Ti notizzo a guardare la mia coda. Sai che hai fatto l'ultimo volta che abbiamo fatto un Aram con Cassiopeia? Quale delle tante in cui ho fatto Pinto? Quello. Sì, però in Aram. Vabbè. Cassiopeia sapporte, non credo da averla mai. Sì, sicuramente l'avrò usata, l'avrò usato qualunque cosa. Però... Ma questo quindi starta da Redditch. Caterina sapporte. Caterina sapporte. Vabbè, pure vinto. Sono vivo. Ciao, Redd. Guarda, lo spam di E. Lo spam di E. Infinito veleno, infinito veleno. GG. Mi farò un bel diandri. Cattiveria. Dovrei cogliere la gente. Esatto. Mi raccomando. Lei pochi di tasti destri, chi vuole, io intanto, senza farsi grabbare dal can... Ma porca... Ma come cazzo fai? E neanche il tempo di entrare in lane è già il fiddato. Sei fiddato, sei morto. Eh. Simpaticone, quello di. Minchia. Come tutti i blitzkank, per cui non una simpatia. Iniziamo, iniziamo. Wow. È pur sempre... Prima o poi finirà il mana, prima o poi. Sure. Pammare non porta a nulla. Sblocchiamo la Q. Aia. Attento. Ecco. Vabbè. Per evitarlo. Ma ma che... P.D. Arrasse. Ah boh, vedo che adesso non sono nella migliore situazione, allora. Eh, assolutamente. Eccoli. Pure blindato non ha fatto un cazzo, praticamente. Esatto. Ed è ancora... È stupendo. È di veleno quanto stacchiamo, madonna. Peccato che mi prosciuga al mana sta cosa, quindi prima dovrò farmi qualche item di mana regen, ma per il resto. Guardalo lì che va back. Andava back. Eh, trappolina. O'Neal se le serve in caso, no. No, perché io alla qua, mi servono il doppio clericico, ah. Ovviamente Max o la E. Sembra giusto. Ma non stai giusto baitando, tranquillo. No, non l'ho preso. Mannaggia. Forse è la prima volta che faccio team di carry. Dio mio. Scontatissimo. Brutta persona adesso. No, quello era il mio minio, un maledetto. Sì, ascolta. BAN. Ma come è startata, Kate Lynn? Perché come è startata? Gigi, ma Gigi! Ma Gigi, Kate Lynn. Non ho più malo. Scusè. Grabba attraverso il muro che non riescono, Chloe. Io non ho malo, però. Mh. Non mi demoralizzo. Tutto mi ha detto. Bisogna soltanto riuscire a poccarli, maledetti. Clerici ancora ci vuole un po'. Io la doppia pure anche la sto sbloccando, oltre il tutto. Attenzione. Yes. Ma questo è il nostro, ah, il nostro leasing. Ma ho visto solo la gamba di un leasing. Ma è un leasing muai thai. Tan, tan, tan. Po' anche se non si è riusciti a concludere, non abbiamo messo un po' di pressione. Ho divinuto, e poi si è passato, è venuto. E poi si è passato, dove si è riuscita. Bisogna è venuto. Ecco perché è cieco. Ma lol. Ma quella ha appeso i due amuliti della fatta solo per spammare la Q. Credo di sì, poi li venderà a cogli a caso. E' bene. Spammi un po' il signor Brau. E' che non ne ho bisogno, se ho fatto un full e ho ancora la pozza, quindi... E' worth both please, e' grazie, e' non ce l'ho una worth, e' non è che... Beh, meanwhile, nelle altre lane, tan, 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 merda. Nel qua dove è la novità. Oh, 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 non è vero, tu... Si, ci conviene andarcene, perché non siamo lordati, se potrebbe arrivare di culo. Per favore. Provida, SirFeed. Vecchi. Vecchi con un po' di wow. Tanto aspettando il male di sia a metà rigenerato da solo. Però vabbè. Eh, trinque tronso? Si. Bait che anche trinque tronso. Allora, facciamo così. Fatto che non ha mobilità sta qua con po' le scarpette. Upgrade qua. E pompo una world. Forza, che le scarpette mi servono. Non ho escape, non ho niente. On my way. On my way, becchi. And this is my way. Si becco pure io, va. Oh, I come to Sir Brusco. Ah, to defeat the tower. First item, liandri. Si, vado a prendere. Entrambi faremo liandri. E giù. Cosa fa questo? Grappami sotto la mia stessa torre, dai. Ma intanto lo vedo con metà vita. Cosa fa? Cosa fa? Arrivo. Ok, che Caitlyn ha l'ulti. Sì, vai, blitzcrank, così. Così, blitzcrank. Sto arrivando. Ah, fatto il... Il coso del recall che si è infilato nel cespuglio. Conosciuto ormai. No, merda, però aveva recollato davvero. No, molle. Borghina. Mentre che ti non ha farmato praticamente nulla. Sono un 4 million. o no non potete è vero che un gruppo e sarà lei la world del voto qui sui funghi mi piazza in mezzo poi piazza un po' di funghi appena passano morite tutti pietro perché ho scoperto potevo il tarlo e probabilmente non posso raggiungere sarebbe anche morto oppure ci fosse un'altra lì infatti cosa che non so non si sta presentando fungo iniziamo eccola giusto eccola ora c'è da scappare vai prendo io ah merda ha flashato ce lo posizionate le cose nell'inventario non lo so ci c'ho la pozza rotta sul 7 costa vita però io eri qua maledetta la system costa ma proprio l'accusa kittin ma la grande non rischiare di aspetta finchè da sola però non provare qualcosa come sarà stato avrebbe fatto ma per giusto per tenerla lontana dal farm no posso andare tranquillamente va di pure va di pure inutilità di blitzcrank support oltre al grab nulla nulla così l'uomo ordo e ecco lì è il flash mi è finita un'altra però per il però sprecato il flash il diretto ti sei preso un fungo schifoso un dono un dono scatta che c'è lì andrea che poi ti sciolgo non troppi gank noi eh no e vabbè però ormai sono troppo prevedibili questi blitzcrank beh come ogni partita però si è a fail si è fatta di per favore però che non ci siamo ancora strappati kill eh c'è stata all'inizio quella possibilità è boss per ora è stata sputtata un fungo una volta una volta perda ah beh beh va camminaci dentro ma questa la dovevo prendere se vabbè blitzcrank per favore ho la wiki 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 però che i tini è senza mano adesso wow questo non doveva succedere allora si è fatto una kill muori doppia uccisione sapevo che sarebbe finita così eh eh casio casio la tastiera le casio mi spiace che c'è morto su scoma vabbè è morto anch'io eh però io se non ho morto tutti e due mi sorrento ha preso secondo assistante anche no solo uno solo uno eh blitzcrank non l'ho colpito minimamente kitling da altra parte ha una kill adesso e io do due qualcun altro che si sta fidando riven come sempre anche il nostro è anche il nostro tra i nomi vabbè dai fai 3 2 si visca anche il range infinito credici io ce lo ripiazzo lì il fungo non è che si infatti non solo il fungo pure la u il trinket fai mamma mia ovviamente da mamma mia una bottling di veleno è questa dps io che gli spawn ma voliai like era un piacere sì manco da manco da bloccato mi prendi a chi di mettere tanti funghi anche qua poi tipo lì nel bash lì così si arriva tanti si parliamo dai gank se ma lei adesso è senza mano e senza blitzcrank ooo che cavolo lol l'hai andata però non mi colpisce ma io ho preso dei colpiferi di torre senza anche realizzare bene il motivo non è che ho ste cozze qua ho la ulti comunque se quella fa un passo falso però tu sti reattivo perché io la blocco ma non la colpisci tu non serve niente guarda il maestro lì guarda il maestro cos'è che pensa di fare? scusa a sti punti andiamogli in faccia sì in effetti vado prima io l'ho e mi sa che pure e pure e pure blocks blocks ora sblocco la w così a sfregge ma non ho ancora sblocco forse pure caitlin ha preso un fungo si mi sono esplosi a manetta se ha del mana da far fuori lo faccia ma tranquille no non è proprio nulla vedo che la si stanno consumando kill a parte riven che comunque si sta continuando a fizzare però 5-3 in effetti il veleno di cassiopeia si sente porterinos e porco due palle vabbè la loro torna metà vita vabbè la loro torna metà vita nooo vabbè la penso forse morivo anche dell'ing dai però te che ti sei spostato io ero diretto sulla linea di tiro vabbè fai niente gg sto pensando se farmi qualcosa di mana regen in più probabilmente mi converrebbe tipo un calice comunque ci siamo fatti anche caitlin giusto per ok così 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 va bene che noia cassiopeia dice che noia quindi io faccio 2-2 le fa 3-1 direi che fa 3-1 sembra un ward abbastanza e abbiamo tirato giocatore perfetto vado back vado devo dare una mano magari mid mi sa che se andiamo mid ci trovano delle brutte sorprese ma brutte brutte ah ok non c'è rimasto più nessuno ok devo cambiare direzione perchè qua arrivo su o ok tu ma quello io sono un tiro nulla mini 2 comprate comprate a wow 5 6 ne puoi mettere più di 3 anch'io non è che posso metterne più di 3 la la torre 3 3 arrivo si scappa lui prendiamo la trappola tutta sua sir il post il gruppo il giusto il il giusto il giusto il giusto il giusto il giusto il giusto l'andare giusto il giusto il giusto il giusto il giusto giusto il giusto il giusto il 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 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 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 110 un back che beccherino prossimo no framerino pox e dice se vuoi commenti sull'andamento dalla partita sulla riuscita della foto eh sì non so se adesso siamo avvantaggiati dal fatto che blitz anche sembra un po' un esperto o altro però vabbè sembra workare bene siamo in ordine l'inventario perché ricordate amici che ci seguite l'inventario ordinato è un ordinario è un ordinario inventato c'è un professore ordinario inventato che non esiste eh la dislessia fa brutti scherzi hai ordinato l'inventato certo mi dovrebbe arrivare domani prossimo mando un ss un hail ss ehh train da me rincontrato Yasuo credo che morirà qualcuno dei due un train da me rincontra Yasuo splash flash però ancora gli andri mi ce l'ho chiuso per favore il mondo completare l'oggetto del support l'oggetto di supporto finita valore qualcuno si sta facendo un blu qualcuno si è fatto un blu c'è una free kill qua lol mi è pure mancato l'ol come ho fatta a farmelo io? meleno piti ho fatto a farm isto blu io c'ero quando l'ho usciso è stato bellissimo ringraziamo il di giunglatore che mi ha ceduto lo blu lo blu della perdita il blu della nudità che ci faccio ancora scappi signor blu venga verso di me no prenditi sto fungo bitch venga verso di me che ho la ulti che ce li facciamo tutti li aspetto dietro l'angolino ciao vieni qua si quella scappa a suon di saltini della morte certa yasuo cazzo porcala puttanazza morti brutta beh potrebbe finire in ward ok finisce in ward dai si si sono morto solo io per una doppia dai può andare non me l'aspettavo quando ho visto il tornado ho detto fuck poi è arrivato un tp lampo e io devo andare back al solito ho visto l'uccisione in diretta andiamo un po' alla situazione generale timo 4 1 gg cassiopeia support 3 3 gg trindamer sei 2 gg fitz 12 5 bam fitz league of legend report 9 per e i'm in love a 4 3 e i'm in love a 4 3 gg anche se non ci ha gankato una volta e noi odiamo quelli che non ci gankano manco una volta si ascolto li odiamo profondamente e tu che stai guardando questo video e fai il jungler lo so lo so che tu sei uno di quelli che in partita non gankano che non gankano la bot lane noi ti odiamo perchè crede che solo la top lane e la mid merito di essere gatti tanti in bot sono in due però perchè siamo in due e infatti no non vale eh io lo so lo so che sei uno di quelli e quindi sappi che ti odio ti odiamo profondamente se invece ganky bravo se invece ganky sei una brava persona hai vinto un biscottino voglio anch'io Yasuo hai fiddato? abbastanza credo 3 9 3 9 andiamo allora non c'è più son dietro il succuletto io sono dietro il succuletto luminoso che scorreggia cose blu eh 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 ho fatto il nascertutto eh mmm piazza in i denti di nascere babboni babboni ne porto un fortuna sanno di baff ma cos'è che pin cosa vuole io guardo dove posso io uso mai fungus non mushroom eh fungus in latino latino greco per far latino ovviamente si c'è fungus penso si fungus funghi oh mio dio per latino non è vero la trinta così da solo va eh tutti urtati tutti urtati muori male muori male vai vittata finchè potevo mi muovo anche se attivo la doppia fuci ma prima hai visto quella ulti li ho presi tutti tutti li ho presi tutti 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 vi prenderò tutti 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 basta oddio quanti minion da farmare con un fungo bam esplodete male scioglietevi con gli andri soldi di cui sarà quello che non doveva succedere no 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 report mancava singe del top cerchiamo un singe del top per fare una norma scrivete nei commenti chi sarebbe disponibile direi che siamo abbiamo un bel po' di fungione eh tra i tuoi funghi con quelle world è un po' che twin dove posso le piazzo sono in via di chiusura della iandri yes ok so much gg in this game è vero che c'è anche urgot jungler tank è vero pure twitch capo vai vai fizz sai che sei un cancro ciao ciao aiuta salvatemi ora però qualcuno qualcuno salvi quel eh ecco salvatemi ecco salvatemi per un tempo in cui si diceva salvate anche il support ma mai nessuno ha mai pensato di salvare il support mia mia il league of legend vabbè direi che però come support ha fatto il suo sporco lavoro si anche se 3 4 5 non è che mi soddisfi molto rispetto ai miei score ma che oddio sono con support con 3 kg eh per la tua squadra e il tuo adcarri fa 7 e 1 esatto questo per dire esatto sai che mi vendo ste due pozze e mi faccio l'elisir della penta che per gli amici è l'elisir della lucidità e ho gli andri quindi adesso le cose dovrebbero vertere il nostro favore contando che li siamo in base e uuuu sior timo sior timo non era un sior brusco una volta timo sora timo sora timo fu lol lool l